Ancora in alto mare il rientro a casa degli sfollati Ater di Teramo. Siamo a gennaio 2020 e centinaia di persone sono ancora fuori dalle proprie abitazioni dal sisma del 2016. C'è stato un sussulto di speranza quando il 13 dicembre scorso il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per l'Edilizia Residenziale Teramana aveva annunciato l'acquisizione al patrimonio dell'ente di 147 unità immobiliari, effettuando i primi 100 rogiti notarili prima di Natale. Le case insomma erano a portata di mano. In molti avevano pensato di poter trascorrere le feste in una nuova abitazione, ma non è andata così. La presidente dell'Ater Teramo, Maria Ceci, ha dichiarato ad oggi che sono stati acquistati esattamente 80 alloggi da destinare agli sfollati di categoria E, 24 a Teramo Città e gli altri nei comuni di Montorio e Mociano. Per la fine di gennaio 2020 l'Ater Teramo dovrebbe completare l'acquisto delle 147 case, di cui 87 per il Comune di Teramo. Ora però c'è il problema dell'assegnazione e i tempi si allungano di molto. Non abbiamo mai parlato di assegnazione di alloggi, ha precisato più volte la presidente Ceci, ma solo di disponibilità di ingresso di queste nel patrimonio Ater. L'assegnazione ora aspetterebbe al Comune di Teramo, che si è però trovato spiazzato da un annuncio ritenuto vago nei numeri e che alimenterebbe false speranze nei tempi. Il sindaco Gian Guido D'Alberto contava su 147 abitazioni totali per il Comune di Teramo, secondo la previsione avuta dalla Regione Abruzzo. Essendo nemmeno, la conseguenza è stata la sospensione del bando di assegnazione già fatto dal Comune, che resta in attesa di avere un quadro definitivo dall'Ater degli alloggi disponibili per Teramo città. Un'odissea per gli sfollati teramani che continua inesorabile, secondo il Movimento 5 Stelle, che ad inizio anno interviene con una nota durissima. Com'è possibile che nel giro di neanche 20 giorni si sia passati dalle certezze alle possibilità? Si chiede Pina Ciammariconi, capogruppo pentastellata al Comune di Teramo. Quali saranno i tempi delle nuove assegnazioni? Il numero degli appartamenti acquistati è commisurato al reale bisogno abitativo? Si è tenuto conto dell'appartenenza dei cittadini ad un determinato Comune? O c'è il rischio che essi possano essere dislocati altrove? Le uniche buone notizie arrivano dal Commissario alla ricostruzione, Piero Farabollini, che ha decretato nuovo personale nei Comuni per smaltire le pratiche del terremoto e annunciato una proroga delle scadenze per le domande di contributo di danni lievi e gravi. Farabollini ha rassicurato i cittadini terremotati che la richiesta per i danni lievi potrà essere presentata fino al 30 giugno 2020, mentre la presentazione delle richieste per i danni gravi slitta fino al 31 dicembre 2020.